Ben ritrovati a questa nuova puntata di economia prima e dopo l'argomento che tratteremo oggi è attinente al settore del turismo e cultura anzi per meglio dire è proprio l'argomento turismo e cultura ed è come prassi del nostro programma la tratteremo avendo come linea di demarcazione in economia prima e dopo l'evento attuale che è quello del coronavirus in questa puntata sempre in compagnia del mio amico e collega alberto di martino ci faremo anche aiutare per far comprendere meglio quali sono gli elementi caratteristici del prima e del dopo dal dottor aldo patruno che è direttore generale turismo e cultura per la regione puglia e quindi benvenuto a lei dottor buonasera allora quello del turismo e della cultura è un settore che viene preso sempre in esame ma più che altro direi viene tirato in ballo quando si parla di economia e come elemento caratteristico del nostro dell'intero sistema produttivo italiano quindi gli si dà una elevata importanza questo e fatti ma solitamente nel chiedo scusa nelle parole ma nei fatti avviene esattamente il contrario perché è un settore che dimostra essere poco sostenuto perché fosse non opportunamente valorizzato e questo va in netta contrapposizione se pensiamo che sia la struttura morfologica che i beni culturali esistenti sul nostro territorio sono un patrimonio naturale ora oltre al danno oserei dire in questo momento c'è anche la beffa perché in termini proprio di coronavirus il settore del turismo e della cultura è quello che probabilmente anzi oserei dire sicuramente ripartirà dopo tutti quanti gli altri perché all'interno del della propria struttura il turismo e la cultura vive di tutti quegli elementi che sono invece stati considerati gli elementi critici in termini di tutela e salvaguardia della salute quindi mi riferisco detto parole povere a quello che è l'unità quindi il cluster le persone che si muovono per il turismo è impensabile che il tutto si svolga a una certa distanza quindi a questo punto se dovessimo cominciare a parlare in termini di prevenzione di rischio secondo lei che cosa è mancato affinché potesse essere meno impattante un evento seppur non previsto come quello attuale ma io innanzitutto farei una premessa cioè occorre distinguere nettamente le varie tipologie produttive che sono all'interno dei due settori innanzitutto la macro distinzione tra cultura e turismo dove la principale differenza parte ovviamente i contenuti attiene proprio al sistema di impresa mentre il sistema del turismo è un sistema più strutturato in termini imprenditoriali anzi direi strutturato in termini imprenditoriali ovviamente con una logica se guardiamo la puglia in particolare molto orientata sulle piccole e medie imprese noi non abbiamo grandi catene alberghiere sul nostro territorio viceversa il settore della cultura anch'esso declinato in tanti ambiti perché c'è lo spettacolo dal vivo c'è il cinema c'è l'audiovisivo c'è l'editoria poi ci sono i beni culturali ebbene in quest'ultimo settore la componente pubblica o del supporto pubblico quindi sia sotto il profilo della gestione che sotto il profilo del finanziamento a fondo perduto è prevalentissima cioè prioritaria manca un sistema strutturato di impresa con tutte le conseguenze che ne derivano voglio dire oggi quando per far fronte all'emergenza il sistema economico chiede ha chiesto innanzitutto ammortizzatori sociali e beh naturalmente se tu non sei impresa se tu sei un'associazione se tu sei un gruppo volontario benemerito per carità ma senza una strutturazione imprenditoriale questo naturalmente oggi ti pregiudica la possibilità se aggiungo soprattutto nel settore della cultura questo potremmo considerarlo anche rispetto al turismo la componente di lavoro nero di lavoro irregolare è una componente significativa e ahimè nel settore dello spettacolo dal vivo è frequente ebbene anche la possibilità di accedere al bonus di 600 euro quello appunto messo a disposizione dallo stato perché non hai maturato neanche le 30 giornate all'anno per poter accedere a questo ammortizzatore è una come dire un ostacolo estremamente significativo ora noi ci siamo sforzati in questi anni in questi quattro anni in amministrazione guidata dal presidente miliano di lavorare a partire dalla cultura sulla strutturazione di una nuova cultura d'impresa partendo peraltro da un concetto che non è un'invenzione della regione puglia tutta la programmazione europea quella della programmazione in fase di conclusione programmazione 14 20 vedeva al centro in questo ambito diciamo settoriale la strutturazione e lo sviluppo dell'impresa culturale creativa ecco noi abbiamo provato a impostare tutte le politiche regionali di sostegno in questa direzione a partire per esempio dalla possibilità di programmare su piano e su base triennale qui non più finanziamenti a sostegno di anno in anno inseguendo il soldo pubblico ma appunto provare a realizzare delle partnership l'amministrazione regionale che ci mette anche dei quattrini ma innanzitutto vuole essere partnership di progetto intorno appunto a progetti culturali il spettacolo dal vivo produttivi cinematografici e così via dicendo che avessero però un arco temporale come appunto capita nelle imprese in cui poter programmare gli investimenti programmare le attività e quindi programmare e valutare gli esiti e gli impatti economici di determinate attività questo ha consentito oggettivamente una crescita significativa sia della componente produttiva quindi della qualità produttiva e della qualità dei progetti sia dal punto di vista della cultura di impresa come dicevo perché per esempio i numeri sul nero si sono significativamente ridimensionati perché abbiamo visto crescere anche l'occupazione perché il nero tra l'altro verso non dà evidenza di qual è il vero ingombro in termini occupazionali di un settore che è inutile dirlo è sempre stato considerato e continua ancora oggi ad essere considerato una cenerentola proprio per questa ragione perché non ha quella organizzazione strutturata quindi conseguentemente non ha quella patrimonializzazione si immagini un'associazione culturale volontaria ripeto bene merita che si presenta in banca a chiedere un prestito o che oggi voglia accedere alle garanzie fondamentalmente il sistema di aiuti è improntato sulle garanzie sul sostegno al credito quale banca lo prenderebbe in considerazione noi abbiamo dovuto sostenere il pubblico deve sostenere questo settore ma io più volte ho detto ai miei interlocutori associazioni categorie associazioni sindacali singoli operatori guardate che se voi vi configurate sempre più come impresa e quindi naturalmente la logica dell'impresa lavorate sul rapporto costi ricati è più facile che le risorse pubbliche noi riusciamo a investirle in quei settori che invece sicuramente sul mercato non ci possono stare è evidente che una biblioteca pubblica ha bisogno di un sostegno pubblico più consistente perché non può stare e non deve stare sul mercato ma un'attività teatrale un'attività cinematografica un'attività musicale che può contare sullo sbigliettamento sulle sponsorizzazioni e ripeto su una redditività che intercetta una domanda posta sul mercato e quindi ciò consente non l'esclusione del contributo pubblico ma un sostegno pubblico che non è totalmente sostitutivo ma è integrativo e ha quella funzione diciamo di volano per poter sostenere un settore che comunque ha una funzione sociale importante e quindi questo il pubblico lo deve riconoscere. Per il turismo la situazione è diversa perché come dicevo lì il tema attiene più alle caratteristiche di piccola e media impresa anche qui però dobbiamo distinguere in maniera significativa perché se parliamo dell'alberghiero noi ragioniamo di un settore che in ragione dello sviluppo della sharing economy negli ultimi anni ha conosciuto una crisi profondissima a prescindere dal coronavirus molto prima del coronavirus tenete conto che gli alberghi in Puglia negli ultimi anni sostanzialmente si sono dimezzati il numero di alberghi si è dimezzato del 50% incalzato da cosa e da chi? Evidentemente dal sistema extra alberghiero, case affitti, B&B, case vacanze e così via dicendo. Con quale caratteristiche e quale differenza? A volte molto spesso una concorrenza totalmente sleale sia dal punto di vista fiscale perché le caratteristiche diciamo e gli oneri in capo agli alberghi, all'alberghiero, in capo all'extra alberghiero sono totalmente diversi, vuoi per una componente di nero anche qui è significativamente importante che oggi ovviamente cala l'extra alberghiero in una condizione di difficoltà maggiore di quanto non sia l'alberghiero che ovviamente vede tutte le prenotazioni annullate però mentre sull'alberghiero oggi possiamo ragionare sul mantenimento in esercizio delle strutture in attesa che passi la nottata, ecco diciamo così, su tutto quel restante ambito la situazione diventa invece estremamente più difficile. Quindi queste due caratteristiche, la dimensione delle imprese e la cultura di impresa sono gli elementi che oggi nell'ambito della crisi faranno la differenza tra chi sopravviverà a prescindere dal sostegno pubblico e chi invece sarà inevitabilmente costretto alla morte e al fallimento. Mi diceva un grosso produttore cinematografico pugliese dopo qualche settimana diciamo dal lockdown in cui già molte imprese del settore della produzione cinematografica o dell'esercizio dichiaravano il fallimento che è veramente strano in un sistema economico sano che una impresa fallisca dopo un mese in cui come dire non ci sono più spettatori. Vuol dire che dal punto di vista dell'assetto economico imprenditoriale finanziario quell'impresa non godeva di buona salute prima e a maggior ragione non ne godrà dopo questa tragedia che stiamo attraversando. Sono d'accordo è il discorso della cultura di impresa è un discorso che accomuna anche per esempio tutti gli enti del terzo settore e quindi portarsi dentro e recepire delle tecniche di managerialità, delle tecniche che guardano alla redditività, alla curva costi e ricavi effettivamente è una cosa che manca al non profit. Quello che si dice è che bisogna introdurre il concetto del profit nel non profit e parallelamente il non profit in quelle del profit. Al di là di questo sentiamo una parere che abbiamo rivolto a Presidente di Federal Berchi Marche Nord Luciano Cecchini. Dal suo punto di vista quale potrebbe essere un sistema per il tessuto della recettività delle Marche Nord per uscire meglio dall'emergenza e provare a recuperare la stagione? Per noi far capire che le nostre attività sono tutte a norma, nel senso che stiamo riuscendo facendo squadra di portare tutte le strutture con la sanificazione, certificazione e naturalmente e anche un'ottima pubblicità sugli eventi che vengono fatti nella nostra provincia di Presarurbino, perché quest'anno come sapete voi era l'anno di Raffaello, 500 anni dalla morte, dopo Rossini, dopo Leonardo, noi puntavamo dei grossi grossi eventi nella nostra provincia e grossi numeri. Noi abbiamo perso tantissime connotazioni sia a livello studentesco, ma anche anche a livello culturale con delle gite importanti. Bene, sperando di uscire al più presto da questa emergenza, riuscite ad intravedere qualche strumento, qualche attrezzo che possa essere adottato per il futuro, nel senso che diventi sistemico, diventi strutturale, in modo da non ragionare sempre in ottica di emergenza, ma imparare a gestire le variabili che il business può portare? Quello della squadra, noi anni che puntiamo a fare squadra, perché è importantissimo essere congiunti con tutto il sistema turistico, perché abbiamo capito che non si vende un solo paese o una città, qui bisogna vendere il territorio, per vendere il territorio bisogna essere uniti e fare squadra. Quello che abbiamo portato a conoscenza al governo, io l'ho portato un mese e mezzo fa sia con la Federal Verdi sia con la Regione Marche, il discorso dello scarico fiscale di tutte le spese, che gli italiani che faranno le vacanze in Italia le possano scaricare e quello è molto 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 importante, perché dobbiamo dare ossigeno alle nostre attività. Come nostra abitudine, mia e di Fischetti, noi cerchiamo di analizzare i problemi e i piani di crescita e provare a impostare anche delle strategie di sviluppo per le imprese. Riguardo al settore del turismo e collegandomi anche a quello che ci ha detto Luciano Cecchini, voglio portare altri due elementi di riflessione usciti sulla stampa estera che mi sembrano interessanti, sempre nell'ottica di già progettare il futuro. I dati sono questi, per esempio in Australia succede che hanno venduto tutte le biciclette che c'erano nei negozi e ora sono fermi perché la produzione è in Cina e quindi aspettano l'arrivo delle navi. La cosa simpatica è che le hanno vendute in un periodo di lockdown, cioè un periodo di chiusura in cui non possono uscire. E quindi il giornalista del Guardian ha provato ad indagare e la risposta è stata quando riapriremo? Non voglio andare sui mezzi pubblici, non potrò andare a partecipare a sport di gruppo, sport di squadra e quindi tra i vari sport in solitare, tra i vari mezzi di trasporto sicuramente prevarrà la bicicletta. Quindi se vogliamo è una spinta autonoma, forse ingenua, però neanche più di tanto, da parte del singolo, del privato, forse anche un fatto di moda e di clima, però si sta cercando un'alternativa che dovrebbe essere intercettata da chi offre determinati servizi. In altri paesi, per esempio, hanno nel giro di pochissimi giorni già trasformato centinaia di chilometri di strada carrabile a ciclabili. Un ulteriore spunto interessante viene da New York Times di oggi, in cui si rivelano che i famosi capital venture, cioè gli investitori privati, stanno trasferendo i loro investimenti dalla costa californiana, dalla costa del Pacifico, nei paesi all'interno degli Stati Uniti, il famoso Midwest, sostanzialmente dove non c'è quasi niente, diciamo così, perché già puntano su uno spostamento, una trasformazione del turismo, da turismo di massa a turismo, chiamiamolo solitario, e quindi più a contatto con la natura, più con i piccoli chalet, più con le escursioni in piccoli gruppi, più sport a contatto con animali, che non assembramenti sulle spiagge che tutti conosciamo. Il famoso, insomma, inland tourist, come lo stanno definendo. Quindi c'è qualcuno che sta già pensando al dopo, cambiando, se vogliamo, anche radicalmente il modo di pensare e l'approccio al business. Quindi, dottor Patruno, possiamo anche noi ipotizzare qualche nuova idea da applicare a Puglia, ma anche fuori dalla sua regione? Beh sì, quando parliamo della Puglia parliamo dell'Italia, che ha caratteristiche uniche al mondo, per cui non ho dubbi che abbiamo tutti gli elementi per poter ripartire, e ripartire in maniera giusta. Anzi, io sono profondamente convinto, non perché sia ottimista, che come accade negli anni 60, se riusciamo a sistemare quei vizi che ci portiamo dietro da troppo tempo, quelle ferite che non abbiamo curato negli ultimi 70 anni, 60 anni, a partire dalla burocrazia, lo dico diciamo da esponente del vertice della burocrazia regionale, se cogliamo l'occasione per affrontare questi nodi, insomma, questo paese nelle nostre regioni non ce l'è per nessuno, ecco, questo io sono convintissimo. Ora, venendo al merito, vorrei mettere in fila una serie di questioni. La prima, per poter immaginare la ripresa, è fondamentale, come dicevo, mantenere in piedi il sistema delle imprese, perché poi naturalmente ricostruire su macerie totali è chiaramente più difficile che non farlo invece su un sistema che si è manutenuto in qualche maniera. Infatti noi chiamiamo questa fase quella della custodia, della manutenzione, del turismo e della cultura. Più che fase 1, 2, 3, che non si capisce mai qual è il numero giusto della fase, è la fase del tamponamento che abbiamo già affrontato, quindi in questo momento quella della custodia e del preservare. Ora, per fare questo sono necessari in questo preciso momento interventi a sostegno dell'occupazione, cioè dobbiamo mantenere l'occupazione, mantenere aperte le imprese, in modo che, e questo è il secondo elemento estremamente rilevante, una volta che saranno rilasciati i protocolli di sicurezza, perché io sono convinto che il vero elemento sul quale si giocherà la competitività dei sistemi territoriali, di qui a qualche settimana, qualche mese, è proprio il tema della sicurezza, per un verso, e dell'innovazione digitale dall'altro. Ma mi fermerei sulla sicurezza in questo momento. Se noi non disponiamo e non forniamo ai nostri operatori protocolli di sicurezza chiari, semplici, circoscritti, sarà difficile che riparta l'attività economica, perché ogni buon imprenditore dovrà farsi due conti. Oggi gli imprenditori valutano che conviene, a fronte, ripeto, di zero prenotazione del turismo, di zero biglietti nel cinema o nel teatro, conviene più tenere chiuse le strutture che non tenerle aperte, perché i costi fissi sono tali da non essere comunque sostenibili. Ora, se le misure di sicurezza che dovremmo adottare, il Presidente Federalberghi Marche parlava della sanificazione, quanto costa sanificare i luoghi del turismo, della cultura e dello spettacolo. Il Presidente Federalberghi Puglia è molto preoccupato da questo punto di vista. Mi diceva che con i criteri di sanificazione immaginabili, quelli dell'OMS, rifare una stanza, oggi ci vogliono 20 minuti, ma se bisogna sanificare prima che entri la signora delle pulizie, dopo che la signora delle pulizie è entrata e quando il cliente è uscito, ci vuole un'ora e mezzo per rifare una stanza. Capite quanto questo può andare ad incidere sul costo di una stanza. O se in un cinema e in un teatro dovranno permanere, ammesso che riaprano quest'anno, delle misure di distanziamento sociale, per cui ci deve essere una poltrona di mezzo tra due spettatori o addirittura due, significa che un cinema che fa 500 poltrone ne potrà utilizzare 150, 200, con un incremento dei costi notevolissimo. Quanto dovremmo pagare un biglietto del cinema? 25 euro? Vale altrettanto per gli stabilimenti balneari e così via dicendo. Quindi se non abbiamo chiarito questo tema dei protocolli di sicurezza, è estremamente difficile farsi due conti. Ora noi come Regione Puglia, in attesa delle indicazioni statali, perché noi siamo perfettamente, profondamente allineati con l'indirizzo statale, che dovrebbe intervenire adesso, subito dopo il 3-4 di maggio, stiamo comunque lavorando con la nostra task force scientifica e gli esperti delle associazioni di categoria a capire quali sono le esigenze minime e massime di sicurezza per ciascun settore produttivo, perché ripeto, è impossibile fare un ragionamento generale su tutto. Bisogna distinguere per l'appunto tra i cinema, i teatri, gli alberghi, i villaggi, gli stabilimenti balneari, i campeggi. Insomma, vanno assunte misure diverse a seconda dei settori. E poi va quantificato il costo di queste misure. Terzo elemento per la verità, una cosa che ovviamente condivido totalmente quello che dice il Presidente di Federalberghi Marche, il tema della squadra. Su questo gli Emiliano Romagnoli sono maestri e noi, come dire, non abbiamo che da imparare, perché il Mezzogiorno in particolare presenta assai maggiori difficoltà nel riuscire a fare sistema. E tuttavia oggi questa è una di quelle condizioni vitali. O facciamo sistema, come si dice in questo momento, lo ha detto anche Papa Francesco, nessuno si salva da solo in questo momento. Ed è la realtà, non è un'affermazione di buoni principi o di buoni sentimenti, no. È così. Se i territori non fanno sistema, non ci si salva. Fare sistema significa all'interno delle singole categorie produttive, ma significa anche, come abbiamo provato a fare in questi ultimi anni, e devo dire che ci ha dato dei risultati straordinari, significa fare sistema tra la cultura, il patrimonio culturale e il turismo. Tutta la promozione della destinazione, diceva ancora una volta bene il presidente di Federalberghi Marche, il tema è vendere il territorio, non i singoli pezzi di quel territorio. Un tempo si diceva, se ricordate, andiamo a fare le vacanze in Salento, andiamo a fare le vacanze in Gargano. Oggi, finalmente, si dice, andiamo a fare le vacanze in Puglia. Ora, questo tema del vendere il territorio impone che i pezzi rilevanti dell'eccellenza territoriale si integrino. Allora, è chiaro che se noi non abbiamo i grandi eventi, non abbiamo la nostra taranta dai 200.000 spettatori, non abbiamo il nostro Festival Internazionale del Cinema Bari, o non abbiamo le grandi attività con cui abbiamo riempito l'offerta culturale pugliese 365 giorni all'anno, nostro piano del turismo l'abbiamo chiamato apposta così, Puglia 365, cioè una Puglia che è fruibile tutto l'anno, anche quando non c'è il mare. E quindi la diversificazione del prodotto passa attraverso l'integrazione con il patrimonio culturale, come dicevo, con la natura e il paesaggio, con l'enogastronomia. Sto però parlando di settori, per esempio quest'ultimo, l'enogastronomia, che crisi non è conosciuta affatto. Non è conosciuta affatto, il sistema dell'agroindustria è un sistema che sta producendo fatturati paurosi, il sistema dell'innovazione tecnologica, il sistema del digitale sta conoscendo innovazione importante, e il sistema della TV, dell'audiovisivo e delle piattaforme Svodvod, Netflix, Amazon, Sky eccetera, stanno facendo fatturati pazzeschi. Voglio dire, questi elementi erano già in programmazione sotto il profilo della integrazione. Quando noi soltanto qualche mese fa, a febbraio, la Bitta, la Borsa Internazionale del Turismo, abbiamo presentato il progetto La Puglia che non ti aspetti, abbiamo già creato i presupposti per questa nuova tendenza turistica che lei citava addirittura negli Stati Uniti. Vuol mettere il rapporto tra costa statunitense, mare statunitense e dentro terra statunitense rispetto al rapporto che ci può essere in Italia, i borghi, i parchi, le masserie, i trulli, i siti archeologici, insomma un sistema sconfinato di eccellenza e di bellezza che in questo momento diventerà esattamente ciò su cui dovremo puntare le nostre energie. Abbiamo lavorato moltissimo con le regioni italiane, tutte, sul sistema dei cammini e degli itinerari culturali, spirituali, religiosi, tematici. Ebbene, questo è uno di quei settori in cui le misure di sicurezza sono facilmente realizzabili, ma i numeri che abbiamo conosciuto soltanto sino a qualche mese fa sono molto incoraggianti, ma ancora lontani da quello che si faceva a Santiago di Compostela. Ora non vogliamo arrivare però anche lì al cammino di massa, vogliamo arrivare però a un turismo nel quale ritrovare anche se stessi dopo un momento di crisi in cui non sarà soltanto il dato economico finanziario quello da prendere in considerazione, ci sarà, e questo dobbiamo metterlo in conto, una componente psicologica fortissima. Pensate soltanto agli abbonati dei teatri, soprattutto dei teatri, che hanno un'età media molto alta. Pensate sia facile anche quando i teatri riaprano domani che rientrino in un luogo chiuso a contatto con altre persone dopo essere stati isolati per mesi ed essere stati invitati per la propria salvezza a stare in casa. Ebbene, questa è una componente non irrilevante nell'ambito dell'approccio economico rispetto al quale dovremo confrontarci. Quindi integrazione intersettoriale, quindi investimento sulla innovazione, investimento sulla sicurezza e ripartire dal pubblico, dai clienti, dalle persone che io sono convinto, molto convinto che saranno di nuovo al centro della idea stessa di impresa. Bene, grazie allora al dottor Patruno e chiedo ad Alberto, alla luce di quello che abbiamo ascoltato, quali possono essere le conclusioni? Le conclusioni che mi vengono velocemente in mente, facendo un po' una sintesi di quello che abbiamo ascoltato, anche unendole alla nostra esperienza, sono essenzialmente uno, introdurre nelle imprese una logica di sostenibilità economica. È vera l'osservazione che abbiamo ascoltato che può sembrare strano che una chiusura provvisoria causi effettivamente tutti questi danni. Comunque, senza adesso fare processi, non tutte le aziende, per non dire quasi nessuna, è dotata di uno strumento di pianificazione, di programmazione, di budget, di controllo di gestione, questo lo abbiamo detto diverse volte. Quello che hai detto tu, sottolineo, non possiamo cercare di fare rete all'esterno se al nostro interno non siamo a posto, non siamo ordinati, non abbiamo le idee chiare, non siamo capaci di fare una programmazione e essere determinati sul raggiungimento di un obiettivo, prima di tutto interno e poi esterno. È importante, parlo almeno per questa parte dell'Italia, uscire dalla logica dei campanili, che non sta portando nulla di buono a nessuno. Ci sono delle esperienze positive, soprattutto qui a Fano, che vale la pena ripetere anche in altri posti. Ed è importante, ma è stato già detto dal nostro ospite, ragionare in termini di rete extrasettoriali, cioè anche con altri distretti, con altre attività economiche, almeno per non darsi fastidio. Io ho visto in un certo posto il festival del pesce nel periodo del fermo pesca, quindi è banale e salta all'occhio che non può funzionare una cosa del genere, ma parliamo anche di organizzarsi oppure allinearsi con i calendari dei maggiori eventi per poter distribuire le presenze in città tra i vari alberghi. Sono tante le cose che possono essere portate avanti. Concludiamo anche la puntata di Oggi di Economia prima e dopo. Ne approfitto per ringraziare nuovamente il dottor Aldo Patruno che è stato con noi, in qualità di Direttore Generale Turismo e Cultura della Regione Puglia. Prendo l'impegno e vorrei che il dottor Patruno prendesse l'impegno con noi per risentirci nuovamente, avere un ulteriore contributo, magari facendo una puntata che sia cultura e turismo, dove potremmo approfondire ancora di più. Grazie per averci seguito e a risentirci e a rivederci. Grazie per aver guardato il video.